Emergenza freddo, la chiesa di Nosiglia aumenta i posti notte in seminario, li gestirà il Sermig. Il bescovo chiede alle parrocchie di aprire le porte alle persone in difficoltà e la chiesa che sa osare. Aleni è nato Omar, bebi rifugiato, Torino così al mondo in casa. Parte il nostro viaggio nelle periferie per verificare l'intervento del comune, il grido degli ex moi, per ora non nell'elenco degli interventi. Le cause dello smog con Piero Bianucci, la morte di Bauman, il sociologo della società liquida. A Volpedo la storia di un bambino figlio di persone arrivate con i barconi e accolte con gioia. La polemica sui post verità e le bufale del web, chi e come informa. La pagina internazionale con l'arrivo di Trump alla Casa Bianca. La morte di Viotto, grande interprete di Maritain. Report esclusivi da Gerusalemme dopo l'attentato dall'Iran e dall'Europa, sempre più ad un bivio. Per le figure del cattolicesimo democratico Carlo Donat Cattain. Per le parrocchie la scelta di Carmagnola, che si spende per le persone in difficoltà. E l'oratorio dei Neta a Venaria. Notizie e iniziative polemiche dalle città e dai paesi della provincia e la nuova rubrica ci hanno lasciati. Un ricordo riconoscente ai pionieri non conosciuti delle nostre comunità. La voce e il tempo, l'altra voce calda di Torino e provincia.